La prossima stagione estiva ha tutte le caratteristiche di essere un'ottima stagione, complice come stavate dicendo anche voi, il grande afflusso degli stranieri, abbiamo realmente dei numeri importanti sulle visite degli stranieri, quindi abbiamo sia quello europeo che internazionale che rispondono benissimo. Possiamo parlare dunque di ripresa ormai dopo gli anni che abbiamo trascorso di crisi, di difficoltà? Sì, questo è l'anno della ripresa, prenderemo i frutti di quello che abbiamo seminato, ancora chiaramente stiamo lavorando con un appeal naturale della nostra città, parlare un po' di flussi del 2019 è un po' complesso, è un discorso un po' più complicato perché qui chiaramente subentra una pianificazione, una programmazione che ancora non abbiamo avuto. quello che andiamo a raccogliere, raccogliamo chiaramente un forte connubio con la nostra vicina Puglia dove Matera in modo naturale è rientrata tra le mete da andare a visitare insieme a quello che possono essere i tour destinati in Puglia. Oltre alla pianificazione è importante anche sempre la formazione delle competenze e reperire il personale è una difficoltà che è aumentata negli ultimi anni, qual è l'auspicio sempre per la prossima stagione estiva? Per quanto riguarda il discorso del personale purtroppo è un dato acclamato a livello nazionale, siamo realmente con numeri importanti che la filiera turistica necessita perché siamo realmente ai minimi storici, solo nella nostra città si stima all'incirca che abbiamo bisogno di 3.000 unità per tutta la filiera turistica, quindi realmente il comparto necessita di iniziare a programmare e formare il personale per il prossimo futuro.